Siamo arrivati a dove c'è giornata meravigliosa, patricini da via meravigliosi, ma Lucia è già all'attacco. Sì, vai, attaccalo, con un bel bignone a cioccolato, vedete per credere, è come al solito, quando mangiare non parla più, si è emozionata, proprio ha rispetto del dolce, la torta al toro con mezza torta intera, ha chiesto il suo figlio dopo che ha vomitato, vero, ma c'è qua che si fa il rifugio padua, andiamo, andiamo al rifugio padua, andiamo al rifugio padua, sono pronto, posso far presto con la macchina. La Sonia con l'olivia, l'olivia, ecco, bravo, l'olivia vuoi, vuoi? Siamo arrivati comunque, destinazione di un plazzo dell'Anno. Eccoci qua, arrivati alla Pineta. E che ti metti tanta fame, che si sa che vanno a mangiare, si è peso, devi marante, che è piena di fame. Guarda che roba. Un posto incantevole, ragazzi, è un posto incantevole, queste sono le marmarole. dietro a questo monte invece c'è il rifugio Galassi e poi il monte Antelao. Traccia dell'Anno invece è lungo questo sentiero, ma lo vedremo dopo. Siamo arrivati. La Pippi non la smette di criticarmi. Sono francesesimi della Pippi questi. Franceschietto. Ecco la Lucia con i spalti e toro le spalle. La Pippi per oggi, la Pippi per oggi ha voluto, vicino a sé Mario. Probabilmente sta poco bene, o la Pippi o Mario. uno a Marantega, la seconda Marantega, la terza Marantega e la quarta Marantega. Il Ducalc. Cosa? Una Vespettina, sì. Faccio il ritmo con la Vespettina? Faccio il ritmo con la Vespettina? Bravo. Posto incantevole. L'importante è essere arrivati. Giornata meravigliosa. Tutto perché nei tornanti ti chiedevo di voler girare. Perché il Ducalc suggeriva la traiettora migliore. Continua a rompere le palle. Sì, è sagittario. Sì, è sagittario. Sì, è sagittario. No, ma è sagittario. Ma è sagittario. Adesso si parla di astrologia applicata ai segni. Una scienza perfetta. Bravo. Vero? Eh, difatti. Massimo, il rosso. Massimo, il rosso. Massimo, il rosso. Ma io, Mario. Mario, quando mai mai l'abbiamo? Insomma, è rabbia. Adesso vi inquadriamo. Ecco, vedete. Quello lì è il primo. Ecco, quella cagnetta sarà il primo. Ah, è il secondo. Il secondo avremo olivia agli asparagi selvatici. Eccola qui. Guardate, per l'ultima volta, perché poi vai in cucina. L'olivia va in cucina e la useremo per un bel souffle con i scampi selvatici. Scampi di montagna dove il gusto ci guadagna. Ecco, iniziano le processioni al cesso, perché le donne, quando arrivano, la prima cosa che fanno, dove vanno? Al cesso. Transumano verso la toilette. Inizia la transumanza verso la toilette. Ne approfittiamo per vedere i spalti del toro nella sua integrità. Anche se davanti abbiamo la Pippi, che è oscura. Ancora un po' la biattina, la Pippi, però gli passa. Siamo fuori la mazza con il nerbo di bue, una passatina veloce e è posto. E tu come ho chiesto, come va un po' la figlia di vecchi baucchi? Eh, ognuno ha la sua età. Invece i baucchi che si sa. Brava. Ecco, siccome andano in toilette, si portano via un po' di tutto. Trucco, trucchetti. Adesso arriva qua l'Olivia e noi la portiamo in cucina direttamente. Ecco l'Olivia. Ecco l'Olivia. Ecco, ancora, deve ancora arrivare e mangiare e vogliono già fare i brindisi. No, no, grazie. Vogliono bere le maranze che cominciano a bere. Ecco, vedete cin cin? Sì, sono le donne bere. Le maranze che vanno a bere, le maranze che vanno a bere, le maranze che vanno a bere. Cin cin, mi devo dire da me cin cin. Non, non, cin cin, che viva cin cin, cin cin. Acqua fresca, buona. Bene. Bene, adesso aspetteniamo i primi, i secondi dopo, del solito. E dopo il dolce. Il dolce arriva sempre. Leit motiv per la Lucia, il dolce. Le pietanze sono arrivate. Le pietanze sono arrivate. Maria si mangia un calzone d'occhi e mezzo da roba. E' una crespella quella. Anche il Bobby ci guarda, guarda il Bobby che bello. All'assalto delle crespelle. All'assalto dei secondi pericologi. Di pipì e leva. Formaggio della casa con soppressa, salame e anche di cervo. Spec del posto. Si passa alla fase due. Ora si mangia la fase due. Tutti concentrati. Si mangia. No. Ma c'è il bello. Alla mano che piantina se c'ava. No, ma c'è il bello. Pensa. Pensa quanta cacca. Guarda, cacca che fa da sei la magia. Guarda che roba. Guarda che roba. Arrivano le delizie. Mario invece ha un pezzettino di... Cos'è? Strudel. Tipo torta di... No. Car. Yogurt, proprio e yogurt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Atento, ti yogurgo, Leo. Perché mi fa male? S'erio? È problema, sono un manio poterio. adesso si imbriache e parla delle robe più grandi del loro parla di medicina, sughi gastrici e si sogna di digerire tutto quello che mangiare e si imbriache è quella se Luca controlla tutto, se Luca non perde niente, è sempre qua, è sempre mio qua e controlla, è sempre mio controllo, vengo a finire sempre ecco, Marante che spalti il toro sulla testa della Lucia, Beatrice che non sa più dove parte stare, non capisce più niente Mario che proprio se mai si è cotto, quando si arriva a Calmaia, è una roba brutta insomma, è in difficoltà la mangià la stop, fine sui alberghi, quando che bevevo spremuta di alberghi? spremuta di alberghi cioè se siamo arrivati al punto, questa qua parla di spremuta di alberghi un po' più cotte se è cotte, no delucidazioni adesso, imbriache ecco, l'acqua che ha fatto è il suo percorso e adesso si è proprio imbriache completo con gli servini, con gli servini del caffè del 27? mia mamma ha due anni qui? ah mia mamma fa 89 5, 9, 9, 9, 9 adesso si è giù dei numeri 88 usiamo su Venecia, 83 usiamo su Napoli e si è giù dei numeri ormai e ora, su papà è un po' è un po' è un po' è un po' Dreams Mario esattamente imbriacho che scotta tutto all'ombra di 10 gradi che scota proprio i briaghi ho finito e che mangiare la nutri acqua poenta e la mia serveva insomma e nutri è pericoso mangiare la nutri lo posso dire montare in macchina così con questo caldo in mezzo giro ti senti proprio il duca parla perché può parlare il duca spettacolo ti annulli a mario e annulli a capo guida pesante andiamo a vedere questo braccio del lano forza se va mettevi la che abbiamo questa foto che vi è nutri e che vi dà fastidio dai con Massimo stavolta dai dai pronto si passa il fiume ecco mario la sua agilità con la nutri in corpo mario stiamo qua se ti muovi e mario mario stiamo qua se ti vuole ti guardiamo il culo tuo e dai si ma mario se dai una spinta e butti in acqua ma dove mario ti dormi lei colpita e fondata mario che va via di a movite e bibi sicura e leggiadria e leggiadria andiamo vieni vieni qua luci guarda luci difficoltà ce la farà non ce la farà ce la farà ce la farà ce la farà e una che da quarant'anni anche a oscarosa che miseria da me a oscarosa a maria qui da quarant'anni con oscarosa ma senza navigatore uno che guida non fa niente che vuole il navigatore in gama perchè sia il guidatore ottimo che vuole il navigatore in gama sempre scutti io non viaggio a morare scutti non io vorrei che a io vorrei che a 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